Blizze della finanza di Napoli in due centri diagnostici, due le persone arrestate e due i medici dell'ASL Napoli 1 interdetti dal lavoro per un anno. Le indagini coordinate dalla procura partenopea scaturiscono da una denuncia presentata dalla stessa ASL e sono state condotte dalle fiamme gialle del secondo nucleo operativo metropolitano che hanno scoperto un'associazione per delinquere finalizzata alla truffa. I medici, falsificando le prescrizioni mediche di esami diagnostici, ottenevano in debiti rimborsi da parte del Servizio Sanitario Nazionale. I rappresentanti legali finiti ai domiciliari sono padre e figlio residenti a Napoli e i medici operano in strutture sanitarie del capoluogo. Il meccanismo architettato consisteva nella prescrizione di costosi esami diagnostici di laboratorio in codice di esenzione nei confronti di persone che di fatto erano totalmente ignare delle prescrizioni al loro nome. In questo modo i due laboratori potevano chiedere il rimborso delle somme a carico del servizio. Per esami diagnostici in realtà mai eseguiti sono stati sentiti oltre 100 pazienti i quali hanno disconosciuto le prescrizioni al loro nome e persino affermato in molti casi di non essersi mai recati presso quei centri diagnostici. Le prescrizioni sanitarie esaminate hanno permesso ai due laboratori di analisi di richiedere e ottenere un indebito rimborso pari a oltre 58 mila euro per cui la Guardia di Finanza ha potuto procedere a sequestri per un valore equivalente a carico degli indagati.